salve a tutti ragazzi qui è bladi della gang del tubo e oggi ci ritroviamo su naruto ultimate ninja storm 4 allora siamo lo scorso episodio ci siamo lasciati con la resurrezione madara che adesso anche lui è diventato il saggio delle serie quindi adesso ci accingiamo a giocare penso che sia una delle fasi finali del gioco quindi come la prima la prima volta abbiamo iniziato come la con nato questa volta iniziamo con sasuke ora succederà qualcosa di incredibile iniziamo iniziamo e iniziamo e mi o toccolo o per il lusso sasca ma da con da che gara nea caro bb ligui o mai io fai Ciao, Ustratoncachi 友達 da! Nacamo 1人救eniai Nacamo 4 kg di niente, non è la la mia Questo è il final Nacamo 8, a te. Nacamo, 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 a te. Grazie a tutti. Ah, questo non era di gioco, quindi. Non capisco. Ah, ok. Vai. Un terrore innominabile. Un terrore innominabile. Sasuke si trova in un Limbo, lì, ah? Un terrore innominabile. Un terrore innominabile. Un terrore innominabile. Allora... Sconfiggi Gurguru. Wow, siamo a Roshima Grandad. No, vabbè, ma... Presente. Oh, risposta qui. Un'accia la miseriaccia Guarda come scappa Non riesco a colpirlo Che palle Ok lui l'ha finita Adesso non può più scansarsi Preso Anche se potevo vedere la mossa finale di San Dodo Non posso prenderlo Vabbè a seconda allora non ci diamo così Oh Rishimaru è forte Volevo vedere la tecnica finale di Sarutobi Però Peccato Un'accia l'accia Un'accia l'accia Un'accia 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 ... Grazie a tutti. Scusate questi rumori, ma la finestra è aperta, va caldo. La computer grafica ha fatto un lavoro assurdo comunque, mamma mia, si vede benissimo, è bellissimo da vedere, è uno spettacolo per gli occhi. Ok. L'uomo di nome è Cabuto. Infinite reincarnazioni nell'Inazelli Zanami. Ok, questo Ragabuto ci spiega quello che ha vissuto all'interno della tecnica illusoria di Tachi. Ano... ... Sì ovviamente ora faremo lo secondo noi siamo capito oh mannaggia prendo, si preso battere medica liberale questa è donna quanta vita abbiamo tolto ok allora qui può ancora evitare tutto questa è quella la mostra di finito era quella la mostra di riuscire ok 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti